Leonardo 200 e Michael Michele Buono, i due pratesi incensurati di 31 e 32 anni finiti in carcere il 21 maggio con l'accusa di aver massacrato di botti a un marocchino in un bar in Biacciabatti nella zona di San Paolo, sono comparsi davanti ai magistrati titolari dell'inchiesta per l'interrogatorio. I due devono rispondere di tentato omicidio e di lesioni gravissime con l'aggravante della crudeltà. Entrambi hanno risposto alle domande ed entrambi restano chiusi nel carcere della Dogaia. La vittima del pestaggio intanto è uscita dal coma e le sue condizioni stanno lentamente migliorando, seppure le ferite, soprattutto quelle riportate alla testa e al volto, siano molto gravi. 200 e Buono furono arrestati dalla squadra mobile di Prato a Ronco Bilaccio un paio di giorni dopo la brutale aggressione. Avevano trovato rifugio nel piccolo centro dell'Appennino al confine tra Toscana ed Emilia quando la polizia entrò in azione ed è questo il motivo per il quale la convalida dell'arresto e il primo interrogatorio di garanzia sono stati fatti al Tribunale di Bologna. A scatenare la furia, secondo le indagini, sarebbero stati futili motivi, un'occhiataccia o qualche parola di troppo della vittima che avrebbe infastidito i due pratesi. Il video di una delle telecamere di sicurezza del bar, subito acquisito dagli investigatori, non avrebbe lasciato dubbi sulla dinamica dei fatti e su una violenza che sarebbe continuata anche quando il marocchino era ormai a terra, indifeso. Non è chiaro se si profilino gradi di responsabilità diversa a carico dei due indagati. Le indagini hanno anche ricostruito che qualche giorno prima dell'aggressione l'extracomunitario si era reso protagonista di intemperanze che avevano obbligato i presenti a chiedere l'intervento della polizia. Al pestaggio, ma con un ruolo più defilato, avrebbe preso parte una terza persona che al momento non sarebbe stata ancora fermata.